Ciao a tutti, oggi vi insegnerò come guardare nella testa di Nico. Prima di tutto legate all'ospedale di Schutler, che si trova precisamente qui. Benissimo. Entrate nell'ospedale. E andate a questa parte. Voi entrate in questa stanza. E dove c'è qualcuno nel letto, saltate sul letto. Un attimo. Eccoci qua, siamo sul letto. Ruotate la visuale in modo da venire così. Ecco. Adesso stiamo guardando la testa di Nico. Provateci anche voi.